Per tutte ragazze che a questo vostro Gigi che ci vede andremo a fare un video molto molto breve dove il nostro padre ha preso il pacchetto da 30 euro a mio fratello quindi fa un bel bel bozzin partiamo da 540 gemme che sono 584 con le altre poi 7500 monete che sono veramente veramente tante e partiamo con le 16 mega casse di sicuro io aspetto sempre aprimi esatto partiamo con la prima io già odio mio fratello mi piace gelindo cromatico incredibile come mio fratello riesce già a trovare un brawler cromatico alla prima tassa e siamo a 16 ancora a 15 sarebbe come un brawler raro e vabbè però per me e c'è un altro skin va bene va bene va bene e comunque di gemme c'erano tante di monete di gemme c'erano un bel po' di skin no monete volevo dire star star power mi piace questo fa schifo brawler oh minchia 400 400 neanche 200 due mega casse e una star power e un brawler prossima mega casse se tu hai una mega casse entri nella storia di brawler stars ecco per fortuna vabbè dai è giusto e siamo a 3 12 ok si mi sembra giusto la sfiga aumenta e poi vi spiega cosa è successo negli ultimi tempi godo e vabbè senti non si può per tutto l'approssimatoria di sicuro qualcosa e vabbè tanto perché il nostro ragazzo ha aperto due mega casse e si è trovato sei skip luminosi e una in otto e un'altra mega casse a otto è vero ok questo qua di sicuro spike se vi spike le uso solo io giugge e di già secondo cromati ma se avrei preferito spike e secondo te io no secondo cromatico di questo bellissimo buzzo comunque devo vedere che trovo non so che trovo pure colette e lui adesso io rido si certo vabbè è giusto dai non so quante sono però cioè io sto per impazzire e a me mi basta anche corvo spike spike ti trovi tipo mister p vabbè dai 5 e qua si vabbè siamo qua siamo qua 800 finisci ma poi devo rapire io perché io ho di sicuro qualcuno perché sono super conoscendoti non trovando un runner da esattamente 6 mesi quasi sempre ehi si vabbè si la fortuna ciao fortuna di sicuro qualcuno no vabbè non voglio portare sfiga o qualcosa infatti vedi vedi datemi non to star power no nessun ok frank vabbè io sono nabbo non l'ho ancora trovato però sono 3 tizi ti manca solo più chi è epico e tara no è mica epica tara è mitica vero no anche gli epici li hai finiti come me perché ieri si è trovato l'altro giorno vabbè dai ok dovrebbero mettere sono sicuro che trovi qualcuno e qualcosa no non posso trovare niente e non ho niente cioè io non potenzio i tizi perché a me non mi piacciono i gadget i loro gadget è un genio perché così non puoi solo trovare oh yes togli le tue e stai e scusate bisogna avere l'ultima fassa sai edgar byron ah vai ok e siamo pure a no a mille a mille a mille a mille dai che fortuna però pure byron pure byron dai ma c'è tre è mitico che fortuna mi mario vabbè dai il prossimo trovi di sicuro qualcuno o magari l'ho pure finito secondo me sono le ultime c o l'ultima provami ok mario questo è stato quello l'ultima veramente un altro ecco siamo già a 1200 200 un'altra quando si guota di qualcuno o qualcosa comunque siamo già a 4 brawler 3 però 4 skip ok posso aprire una se la prossima è se mi porti sfiga dai aspetta aspetta aprimi è un tocco magico con il laso no con il dito il sacrosanto dito con il mignolo però l'abbiamo perso vedi 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 e non è ecco un brawler tara dai che palle però si sta trovando più brawler che io non ho fatti dai dai allora devo dire che un po' di sedere ce l'ho ma tu fai schifo ti dice nuova scusa schifo ma io ti show un po' tutte le le strighe no buona un attimo adesso adesso franco tara bairo come si legge bairo bairo stiamo andando a pegnere cromatico energetic ma io fermo fermo un attimo devo un attimo solo faccio vedere un attimo si dai che poi tre dei tre dei nuovi tre dei nuovi non so neanche parlare posso già ammazzarli allora questo è uno spoiler del video di domani o di stasera mio fratello ha aperto il pack da 33 euro e ha trovato frank tara byron gelindo energetic e la strappola di bro quindi pensate quanto lo odio ci devo fare anche se non fai vedere il tavolo comunque tagli sta parte raga no grazie mille perché mio fratello è solo culo adesso io spero di riuscire a scioppare anche una cosa su piangi cookie c'è francesco c'è gigi una cosa una cosa ecco no se mi scioppi oh cazzo no mi rimarrebbero 200 200 beh anche lui però no non mi conviene scioppare i brawler tanto poi troverò di sicuro cioè io potrei scioppare questo questo e questo tutto lo shop potete fare dei video comunque raga vi ringrazio a vedere il video mi raccomando un bel like volete avere anche voi la fortuna di mio fratello non è vero perché solo lui può avere questa fortuna e mi raccomando like e domani che è il 27 perché non so quando pubblicherò sto video farò uscire che domani sarò in live di fuori e giocherò con gli iscritti quindi mi raccomando e te la farò pesare te la farò pesare